Quali sono le tue emozioni di oggi? Finalmente ci sono riuscito a vincere un campionato che era da un po' che non ci riuscivo e niente, sono veramente molto contento, ringrazio molto il mio cavallo che mi ha aiutato tantissimo e i miei genitori, tutti, che mi hanno aiutato in tutto e niente, sono molto contento. Una stagione fantastica, grandi soddisfazioni, quali sono i tuoi prossimi obiettivi e la tua più grande soddisfazione dell'anno? I prossimi obiettivi faccio settimana prossima a Bagnaia e poi forse c'è Oclobeck che devo andare a fare un'internazionale là che è bello e niente, sono molto contento di quest'anno come andate le gare. Quest'anno non ricordo più bello? I campionati sicuramente sono stati belli, anche gli europei in settima posizione, sono molto contenti. Dedichi a qualcuno questo appuntamento? Sicuramente i miei genitori e tutto il gruppo che mi sono stati insieme e che mi hanno aiutato per fare le cose al meglio. Quanto è importante lo spirito di squadra tra voi ragazzi? È fondamentale, bisogna vogliarci bene, non avere in via tra uno e l'altro e stare insieme, fare un bel gruppo e fare squadra. Grazie a tutti.